Fine settimana tragico sulle montagne abruzzesi. Tre persone hanno perso la vita. Si sono concluse infatti le ricerche del 37enne di Città Sant'Angelo disperso da venerdì. Il corpo di Matteo Martellini è stato ritrovato dai tecnici del soccorso alpino e speleologico sul versante aquilano del Gran Sasso sulla via del Centenario, dopo 36 ore di ricerca che hanno visto impiegati anche gli elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco. Stessa tragica sorte per Giampiero Brasile, 58enne di Lanciano, e per Antonio Muscedere, 55enne della provincia di Frosinone. I due erano insieme ad altri quattro escursionisti quando sono precipitati in un dirupo a Rava della Vespa sul versante est della Maiella. I compagni di Cordata, di cui due rimasti feriti, hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma gli operatori del 118, una volta geolocalizzati e raggiunti gli escursionisti, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due. Questo a dimostrazione di quanto la montagna possa rivelarsi insidiosa anche per chi ha grande esperienza. Martellini, infatti, era uno sportivo e un grande appassionato di escursioni. Neanche Brasile e Muscedere erano degli sprovveduti. Quest'ultimo addirittura era chiamato l'uomo dei record. Aveva già scalato 256 montagne, tutte sopra 2000 metri, e aveva ricevuto il titolo di grande appenninista. Secondo gli esperti, questo è uno dei periodi dell'anno maggiormente insidiosi, poiché si verificano condizioni di scarsa copertura di neve del fondo e basse temperature. Le piste così, anche quelle più conosciute, si trasformano in ambienti scivolosi. Per affrontarli è fondamentale disporre di un buon equipaggiamento, ma soprattutto occorre saper valutare l'affidabilità dei percorsi e le variazioni meteorologiche.